Salve a tutti! In questo video voglio presentarvi l'ultimo prototipo di carico elettronico che ho realizzato e ne ho realizzati altri in precedenza, ma diciamo che man mano si migliora quindi sono arrivato attualmente a questa ultima versione che adesso vi illustrerò diciamo che rispetto alla versione precedente ci sono stati dei notevoli miglioramenti trovate il video sul canale, in pratica era un po' tutto volante adesso invece ho fatto tutto molto più compatto e rispetto al precedente questo qui è di tipologia carico elettronico ibrido ho già trattato in teoria questo argomento, diciamo in breve quello che si va a fare e fare in modo che la potenza che viene dissipata viene divisa fra il MOSFET o comunque l'attivo e una resistenza che viene messa in serie si dimostra analiticamente che in pratica il carico elettronico messo in questa modalità quindi l'ho chiamato ibrido, assorbe o meglio dissipa solo il 25% della potenza totale che viene dissipata quindi sugli attivi c'è solo il 25% che risulta essere molto vantaggioso in quanto ovviamente il dissipatore viene di dimensioni molto contenute di fatti come si può vedere qui abbiamo che il carico elettronico riesce a reggere fino a 1 kW di dissipazione ma in realtà sugli attivi ce ne sono solo 250 di fatti come vedete il dissipatore non è enorme è un dissipatore da 250 W, assolutamente non da 1 kW quindi riesce a raggiungere queste prestazioni proprio perché è diciamo ibrido poi ovviamente questa è la scheda sono andato a fare questo assemblato fra dissipatore, vendola e questo pezzo di legno e adesso vi passo a illustrare nel dettaglio di cosa si compone questo prototipo partendo dalla scheda questa volta ho voluto utilizzare un escamotage per rendere il tutto più compatto quindi quello che ho fatto è stato utilizzare un lato come frontend quindi parte dove vado a mettere le mani per selezionare le varie configurazioni che dopo vedremo mentre il lato di sotto l'ho usato per il montaggio dei componenti quindi una volta assemblata poi come avete visto si gira tutto sotto non si vede niente e la parte di sopra è dedicata appunto solo alle scritte e questo diciamo mi è risultato molto vantaggioso perché ovviamente non devo mettere il tutto in una scatola ma già sulla scheda sono presenti tutte le indicazioni di cui ho bisogno per poterla utilizzare adesso partendo da quelle che sono le specifiche del prototipo abbiamo che questo qui è stato disegnato per poter lavorare fino a un massimo di 20 ampere e con un massimo di ingresso di 400 volt ora mi fermo subito per dire ovviamente essendo che è ancora un prototipo ho utilizzato questa opzione quindi solo per poter fare dei test poi vedrò un attimino come migliorare questa idea perché comunque quando qui ci saranno 400 volt ovvero questa parte sarà tutta in alta tensione diciamo che mettere le mani qua vicino forse non è l'ideale quindi quello che pensavo è poi di andare a fare un box qui sotto può comunque mettere una barriera in modo che non si vada a toccare ma solo ad ammorsare i collegamenti però ripeto avevo bisogno di una scheda per iniziare a testare il funzionamento come detto può arrivare fino a un kilowatt ma soltanto i 250 watt vengono realmente dissipati dagli attivi quindi la scheda ha qui un ingresso dove si va appunto a inserire una resistenza che si porta fuori con due cavi e che poi ovviamente va prevista una dissipazione da qualche parte ora piano piano però ovviamente i restanti 750 watt andranno su quella resistenza e quindi ci sarà un problema di temperatura ma vedrò come fare poi mentre per quanto riguarda l'input l'input può essere sia in AC che in DC di fatti dalla parte di sotto se vedete c'è il ponte dopo vi faccio vedere anche sul prototipo quindi è pensato in modo che se si inserisce un carico di C basta seguire ovviamente il più è il segno più e il segno meno indicati sul silk mentre se si inserisce una C basta semplicemente collegare qui la C quello che poi succede è che sul bus perché qui poi ci sarà un condensatore di rettifica molto piccolino però quello che succede è che si avranno le semionde rettificate quindi gli attivi funzioneranno allo stesso modo ma ovviamente andando a rettificare la tensione che reggono all'ingresso mentre qui sotto abbiamo tutti gli altri comandi qui c'è la connessione della ventola qui l'interruttore per accenderla perché attualmente è ancora manuale qui ci sta l'ingresso della 12V quindi la scheda funziona come un'ausiliaria di 12V e questo è il regolatore a 5V qui ci sono due manopole per la regolazione che poi vedremo meglio in pratica consentono di regolare appunto le varie modalità aumentando o diminuendo la corrente, tensione o il valore della resistenza assunto dagli attivi qui ci sono varie scale perché appunto lavorando fino a 400V per aumentare la risoluzione quando si lavora in basso è inutile utilizzare tutta il range per poi arrivare comunque a una precisione molto bassa quindi qui ho inserito come collegare questi pin ovviamente è in binario quindi U001 sta per corto su questo, corto su questo e corto su quest'altro va a mano che si sale si lasciano tutti aperti come un cortocircuito quindi in realtà legge 0 mentre qui questo vale per la corrente quindi per essere più precisi in corrente basta di volta in volta andare a cortocircuitare questi pin forse è più chiaro se lo faccio vedere qui sì, in effetti quindi si va di volta in volta a cortocircuitare con questo jumper i vari pin e si va appunto a selezionare la scala qui adesso vediamo si vanno a selezionare le modalità quindi questo carico può funzionare sia in current mode che in resistor mode che in voltage mode appunto si andando a seguire quello che è scritto sul silk questa lineetta sta per il corto andando a spostare questi jumper in modo opportuno su questa fila strip di pin quello che si ottiene è che si cambia modalità sulla scheda ce ne sono quattro perché come si vede adesso vi faccio vedere anche appunto il ponte come si vede ho utilizzato quattro attivi in parallelo quindi in realtà se poteva leggere anche qui appunto 60 per ogni MOSFET quindi la potenza è 250 watt ma su ogni MOSFET se ne possono dissipare al massimo 60 questo ho preferito utilizzarne quattro in parallelo appunto perché la potenza va distribuita perché altrimenti un solo attivo non riuscirebbe a reggere tutta quella potenza dissipata e ovviamente perché c'è questa cosa perché anche qui se leggete ogni MOSFET ha il suo controllo quindi qua ci sono quattro controlli in parallelo questo perché ovviamente se si utilizzasse un solo loop non funzionerebbe ogni MOSFET deve avere il suo controllo perché vedendo anche i video precedenti che ho caricato sul canale già due MOSFET iniziano a succedere davvero dei grossi casini e poi niente qui appunto faccio vedere il particolare della ventola che finisce proprio pelo pelo con la sezione alettata dell'ITSYNC non c'è poi particolarità non c'è nessun aggancio sulla scheda quindi la scheda viene tenuta soltanto attraverso i pin i piedini dei MOSFET e questo è tutto quello che c'è da dire su come questo prototipo appunto è stato assemblato adesso prendo lo schema elettrico per farvi vedere appunto su carta tutte le parole che ho fatto fino a questo momento come detto in precedenza questo carico elettronico può avere tre modalità voltage mode, resistor mode, current mode quindi andiamole a vedere tutte e tre nel particolare so che l'ho già trattati in precedenza sul canale però è giusto anche rinfrescare la teoria per poter andare avanti allora per quanto riguarda il current mode in pratica cosa significa? significa che il carico elettronico è messo in controllo di corrente quindi quello che fa in pratica l'attivo cambia la sua resistenza in modo lineare in modo da far passare una corrente controllata attraverso di esso quindi ci sta un controllo su uno shunt uno shunt di corrente che entra in questo amplificatore di corrente amplificatore quindi va a fare un'amplificazione del valore di tensione alletto sullo shunt di corrente ed entra sul pin invertente di questo integratore mentre sul pin non invertente viene collegato sul set point quindi che cosa succede? aumentando il valore di questo set point quello che succede è che bisognerà raggiungere una corrente più alta per far eguagliare il valore di questo amplificatore e quindi regolando questo potenziometro si va ad aumentare o diminuire il valore della corrente che scorre nel MOSFET per quanto riguarda invece la modalità di resistor mode il carico elettronico si comporta come se fosse una resistenza quindi quello che succede è che al variare della tensione di ingresso lui farà passare attraverso questo MOSFET una corrente variabile ma sempre proporzionale al valore che è stato impostato quindi supponiamo ad esempio che impostiamo un valore di 10 ohm quello che succede è che se qui ci sono 10V qui passerà 1A se qui invece ci sono 100V qui passeranno 10A perché? perché lui va a fare in modo che la resistenza resti costante e quindi si comporta appunto come una resistenza per quanto riguarda la configurazione abbiamo che il controllo di corrente quindi l'amplificatore che amplifica il segnaletto sullo shunt è sempre sul pin invertente ma questa volta il pin non invertente è messo su questo potenziometro che è collegato direttamente alla tensione ora cosa succede? qui questo potenziometro era messo su una 12V costante quindi una volta che noi lo andavamo a muovere il set point rimaneva costante qui invece essendo che questa tensione varia varia anche il set point variando il set point di conseguenza varia anche il punto di lavoro ed è in questo modo che appunto il circuito fa in modo che la resistenza resti di valore costante per quanto riguarda invece la modalità voltage mode il carico elettronico si comporta come se fosse un generatore di tensione quindi fa in modo che ai capi del MOSFET dell'attivo si mantenga una tensione costante per far questo si va ad utilizzare questi due potenziometri quindi questo potenziometro che sulla tensione fissa finisce sul pin invertente quindi è soggetto appunto nel caso precedente a una tensione variabile ma qui va a leggere proprio la tensione ai capi del MOSFET quindi questo potenziometro finisce al pin non invertente com'è che funziona quindi? qui andiamo ad impostare il set point e con questo potenziometro andiamo a leggere la tensione che c'è ai capi del MOSFET ovviamente se noi andiamo ad impostare una certa tensione quello che lui fa è andare a regolare la sua uscita in modo che si raggiunga appunto la tensione prefissata quindi quello che vorrà è che questi due ingressi siano uguali c'è da dire che questa modalità è abbastanza particolare per due motivi uno perché diciamo non si legge il feedback di corrente e due perché non leggendo il feedback di corrente è intrinsecamente pericolosa nel senso che è una modalità autodistruttiva perché se... non essendoci un controllo della corrente si può anche rompere l'attivo e soprattutto non può funzionare senza una resistenza ovviamente perché se qui si va a imporre... in questo caso qui abbiamo una tensione di 50V in ingresso se qui noi andiamo a imporre una tensione di 10V ovviamente non essendoci nessuna cauta di tensione da nessuna parte l'unico modo che lui ha per cercare di compensare questa situazione è tirare sempre più corrente ma ovviamente essendo due generatori collegati in parallelo non riuscirà mai idealmente a compensare questa situazione quindi finisce per distruggersi quindi diciamo che è una modalità che quando la si usa bisogna stare attenti a come si effettuano i collegamenti e soprattutto tenere l'occhio alla corrente che passa quello che vi ho appena illustrato è il funzionamento teorico delle tre modalità in pratica il circuito è leggermente diverso perché come detto vi sono 4 attivi in parallelo quindi adesso andiamo a vedere come è stato fatto diciamo prima in Spice e poi realmente sulla scheda quindi partendo dal current mode quello che ho fatto in Spice è stato appunto simulare tutti e 4 gli attivi contemporaneamente adesso per ciascuna parte mi concentro solo sul primo stadio perché poi ovviamente sono tutti uguali quindi abbiamo qui la parte di controllo come detto in precedenza e qui vi sono le due parti dove si vanno a settare i set point in questo caso essendo che siamo in current mode l'unico potenziometro che conta è questo qui che appunto va a settare questo amplificatore sul suo pin non invertente per quanto riguarda il resistor mod il circuito resta uguale soltanto che al posto di prendere il set point da questo potenziometro appunto come detto lo andiamo a prendere da quest'altro che è collegata con la tensione di bus per quanto riguarda invece il voltage mode la situazione si fa più interessante perché come detto prima non vi è nessun feedback sulla corrente che sta passando nell'attivo ed essendo che ne abbiamo 4 in parallelo quello che succede è che in pratica ovviamente il primo attivo che si accende vince quindi se si va a mettere un carico con bindi che in realtà si è ben al di sotto della potenza massima dissipabile in realtà succede che sta lavorando solo un attivo e quindi la scheda si potrebbe rompere quindi quello che sono andato a fare è stato andare sì a mettere in i due potenziometri appunto uno il V bus read sul pin non invertente e il potenziometro invece quello che abbiamo visto prima legato alla 12V fissa sul pin invertente ma in parallelo a questo sul pin invertente sono andato a mettere il sensing della corrente questo perché? perché andando a correttere questo sensing con una grossa resistenza ho visto in simulazione che la situazione tende a riequilibrarsi quindi se c'è un attivo che fa scorrere molto più corrente ovviamente il valore di questo aumenta di molto e con questa resistenza che dà rispetto a un K diciamo non dà lo stesso peso ma comunque dà un'influenza su questo pin quello che succede è che l'integratore leggermente e lentamente si abbassa fino almeno al livello simulativo che diciamo vi anticipo poi in realtà non si è verificato va a uniformare le correnti che passano nei quattrattivi quindi c'è stata questa particolarità che ripeto funziona parzialmente ma non come piacerebbe a me quindi questa è l'unica differenza che c'è tra la teoria, appunto lo schema di concetto e la pratica che ci sono quattrattivi invece che uno e quindi è stato necessario inserire questa compensazione adesso vi illustro velocemente lo schema elettrico quello che poi alla fine è realmente su scheda quindi lo schema si divide in 5 fogli principali si trova subito la parte di alimentazione che praticamente semplicemente si va a prendere 12 volte con un LDO se la porta a 5 questo è lo stadio di regolazione quindi i due potenziometri qui e qui che sono entrambi bufferati e quindi poi si vanno a leggere gli amplificatori vanno a leggere questi due valori a valle del buffer questo è lo schema del layout di potenza quindi ci sono i quattro MOSFET ciascuno con il proprio shunt si è diviso con due resistenze in modo da distribuire il calore poi ciascuno ha il suo filtro qui c'è il pond, fusibile e il move nel caso in cui ci dovessero essere delle sovrattenzioni poi per quanto riguarda la parte di controllo l'ho divisa perché essendo che ho utilizzato un DIP8 che è a coppia di due quello che risulta è che alla fine ciascuna di queste coppie riesce a comandare due stadi quindi appunto sono accoppiati stadi 1 e 2 e stadi 3 e 4 quindi ecco qui come si vede questa è la coppia questo è un DIP8 no, questo è un SOIC8 e questo è un DIP8 quindi sono due integrati questo qui è per la parte di sensing della corrente perché non ho utilizzato i due? perché questo è un reel-to-reel questo no quindi per il sensing di corrente dove serviva alta precisione anche valori prossimi allo zero ho dovuto utilizzare questo part number mentre quest'altro che è utilizzato come integratore andava bene il TL082 e quindi si sono accoppiati così i canali stessa cosa per l'altro canale quindi un'altra coppia e un'altra coppia e infine vi è lo stadio le connessioni quindi quelle che sono state fatte tutte appunto il strettore di tensione il strettore di corrente qui poi ci sono tutte la parte di jumper per selezionare per abilitare i canali la ventola e questi poi sono tutti i jumper della configurazione di ogni canale quindi questo qui è lo schema elettrico se siete sopravvissuti alla parte teorica e alla spiegazione dello schematico penso che adesso risulti molto più chiaro diciamo le varie scritte che sono sulla scheda perché ovviamente ci sono delle sigle soprattutto sui due potenziometri e quindi questo potenziometro il CM e il VM indica che influenza cioè entra in azione quando siamo in current mode e in voltage mode questo qui invece entra in azione quando siamo in resistor mode e voltage mode perché a seconda di come vanno a selezionare qui viene abilitato o disabilitato stessa cosa stesso discorso per quando riguarda questi selettori che vanno a cambiare la scala di lettura e niente quindi meno per quanto riguarda l'aspetto estetico questa volta sono abbastanza soddisfatto ora vado a connettere qualcosa quindi andiamo a testare le varie modalità vado a fare qualche test per vedere se effettivamente funziona se è utile a qualcosa oppure no la prima sequenza di test che voglio fare è la seguente andare a connettere direttamente il carico elettronico all'alimentatore da banco che ho qui in laboratorio che riesce a raggiungere massimo 30 volt 10 ampere quindi 300 watt e andare a vedere da solo come si comporta nelle tre modalità di funzionamento ovviamente nell'ultima vado a inserire qui una resistenza e voglio vedere come si comporta nel senso come si distribuiscono le correnti tra i quattro rami del carico elettronico una volta viste queste modalità poi voglio andare a verificare la potenza massima che riesce a reggere in questa configurazione il carico elettronico perché come detto è da 250 watt però ci doveva essere il TO 247 quindi voglio un attimino vedere le temperature massime che si raggiungono e a quale potenza si raggiungono per avere un'idea delle sue capacità questo è il setup di test quindi questo è l'alimentatore ausiliare 12 volt che alimenta la scheda da qui questo è l'alimentatore da banco di potenza poi questi due sono i morsetti di collegamento qui ho fatto un corto perché appunto come detto non c'è la resistenza e poi qui sono andato a saldare questi fili che sono corrispondenti allo shunt di ciascun canale quindi una volta attivato poi con col multimetro andiamo a vedere la caduta sullo shunt quindi ovviamente se fosse tutto equilibrato dovremmo vedere sempre lo stesso valore inoltre lui andrà a leggere per ogni ampere che passa per lo shunt leggerà circa 50 millivolt quindi un ampere corrisponde a 50 millivolt di lettura qui adesso effetto gli ultimi collegamenti e poi inizio a testare il carred mode inizio il test quindi ho messo il selettore sul valore più basso di corrente quindi adesso potrò assorbire massimo 2 ampere adesso è al minimo vado a girare la rotellina non succede niente ah sì perché giustamente non è selezionato correttamente la modalità ho selezionato la modalità corretta quindi riproviamo dopo la falsa partenza no non va giustamente perché non ho acceso l'ausiliario ok allora accesa ecco adesso sta assorbendo quindi al minimo tutto a zero assorbe 20 milliampere inizio a salire come si vede sta assorbendo fargo lentamente mi fermo a un ampere perché voglio vedere adesso cosa leggo sugli shunt giusto per iniziare a prendere qualche valore forse non ho fatto una scelta comoda comunque qui ci sono 13,5 millivolt qui 14 14,2 mentre sull'ultimo 9,37 quindi per quello che ho letto adesso sul canale numero 2 sta passando più correnti in assoluto mentre sul canale numero 1 ne sta passando di meno facendo una proporzione con quanto detto prima in pratica abbiamo che su questo canale stanno passando forse 0,3 ampere e qui 0,2 quindi attualmente 100 miliamper di differenza è ancora accettabile provo ad andare fino a fondo scala ok sono a fondo scala e si ferma a 2,04 quindi dal punto di vista del selettore è abbastanza preciso ok adesso cambio il selettore e continuiamo a salire ho cambiato il selettore quindi risalgo adesso si vede che si muove più velocemente perché giustamente ha una sensibilità più bassa mi fermo a 4 ampere perché in questo modo leggiamo direttamente 50 millivolt sul sui sull'isciante accendo anche la ventola perché in teoria sono 50 watt dissipati quindi 51,9 52,4 52,3 47,7 quindi c'è una minima differenza ma non è tanto grave ok quindi per il momento mi fermerei a 4 ampere su questa prova adesso vado in modalità resistor mode e poi per salire in corrente torneremo più tardi su questa modalità ho messo il carico elettronico in modalità resistor mode e adesso quando è tutto al minimo leggiamo una corrente assorbita di 0,07 ampere inizio a salire quando è tutto al massimo leggiamo una corrente di 5,4 ampere quindi volevo fare un attimo questo test per capire qual è l'escursione di resistenza minima e massima che riesco a effettuare perché facendo la divisione tra volte amperse ottiene la resistenza minima che si può fare con questo circuito e questo è importante perché ovviamente anche cambiando perché adesso essendo il resistor mode andando a cambiare qui la tensione come si vede cambia anche il la corrente assorbita quindi adesso sto assorbendo 1,06 ampere se vado al massimo facendo la vendola perché ok a 30 volt sarebbe dovuto essere 2,12 ah beh però c'è diciamo una piccola differenza cioè se fosse stato perfettamente il doppio era 2,12 in realtà ci sono 100 mA in più però diciamo che è abbastanza preciso almeno per il momento adesso voglio provare a fare la prova di prima come si nota questo alimentatore da banco è di qualità eccezionale va bene quindi lo porto fino a 4 ampere e vedo in questa modalità come la corrente si distribuisce sugli shunt lui si spende quindi 51 vabbè 52 52 e 5 52 e 5 47 e 9 quindi il canale 1 è quello che presenta diciamo meno corrente sempre quindi evidentemente c'è un piccolo valore o magari lo shunt ha un valore un po' leggermente più alto sempre entrando nelle toleranze e le resistenze o magari le resistenze di feedback fatto stare che il canale 1 assorbe leggermente di meno ok adesso mi preparo per testare l'ultima modalità ho inserito la modalità voltage mode e ovviamente sono andato a mettere anche una resistenza appunto sui connettori della resistenza perché è ovviamente in questa modalità se non metto una resistenza fa un corto quindi c'è la resistenza da 1 ohm e quello che adesso vado a fare come si vede ok qui è andato troppo ok forse non si apprezza perché ok quindi per farvi vedere questa cosa ok devo un attimo attrezzarmi meglio ho posizionato il multimetro fra il ground della scheda e il drain dei mosfet che è in parallelo che in pratica corrisponde all'uscita di questa resistenza quindi muovendo il potenziometro è molto sensibile in questa modalità ok per esempio impongo in questo punto 8,66 volt andando a muovere adesso questa tensione ok in realtà cambia quindi in realtà non dovrebbe essere così quindi appunto già da qui come vi annunciavo si vede che in realtà questa modalità non funziona molto bene non vorrei aver sbagliato polo di della resistenza ma no in realtà no quindi se funzionasse correttamente in questa modalità quello che si dovrebbe vedere è che la tensione resta costante ma già si muove ora scollego tutto e voglio vedere se almeno il feedback è diciamo è coerente quindi lo riporto in una situazione di magari di 4 ampere se ci riesco ok più o meno ci siamo 50 59,8 52,5 50,6 50,6 50,51 quindi in realtà su queste modalità gli shunt sono bilanciati ma c'è qualche altra cosa che che non sta funzionando correttamente quindi adesso cerco un attimo di capire e di andarci dietro ma questa modalità mi sta creando dei problemi sono andato un po' dietro a questa situazione e in pratica l'errore era mio quindi ricapitoliamo il carico elettronico ibrido è quello che si trova all'interno di questa linea tratteggiata che si compona appunto del carico elettronico classico più l'aggiunta di questa resistenza che lo rende ibrido in modalità voltage mode quello che fa è andare a mantenere costante la tensione che c'è fra questi due punti quindi se la tensione di questo generatore varia lui ovviamente ci sarà una cauta su questa resistenza ma quello che fa è imporre una tensione fissa appunto fra questi due punti quindi se varia questa tensione la corrente che scorre all'interno varierà ed sarà limitata soltanto da questa resistenza e dalla differenza di tensione che esiste fra questo punto e questo punto ora quello che sono andato a fare prima è stato andare a mettere la resistenza qui senza mettere questa resistenza quindi mi sono ho sbagliato completamente il cablaggio e quindi ovviamente il carico elettronico stava appunto impazzendo perché non esistendo questa resistenza andavo a mettere in corto in pratica due generatori e poi sono andato a prendere la tensione che c'era tra questo punto e questo punto col multimetro quindi non solo la corrente aveva una forte variazione appunto dovuta a questo fenomeno ma la tensione ovviamente variava perché non c'è nulla che impone che tra questi due punti ci debba essere una tensione costante quindi adesso ho rifatto il collegamento corretto quindi ho messo questa in corto per testare solo il carico elettronico e sono andato a mettere la resistenza nel posto giusto e andrò a tenere sotto controllo la tensione che c'è tra questi due punti ho rieffettuato il cablaggio quindi sono andato a mettere in serie tra l'alimentatore e il carico elettronico la resistenza da un ohm e qui ho messo un corto e sono andato a posizionare il multimetro ai capi del carico elettronico o meglio ai capi del ponte quindi si vede una piccola differenza di tensione dovuto al fatto che vi è la cauta dei diodi del ponte quindi adesso quello che vado a fare è imporre una tensione sul carico elettronico e qui ovviamente sono ancora sopra soglia ok mi mantengo sui 12 volt e vado ad aumentare la tensione dell'alimentatore e come si vede qui la tensione aumenta e qui non resta perfettamente costante però aumenta leggermente è aumentata di 500 millivolt al rispetto di una grande variazione di tensione che vi è qui ora questo fenomeno non è dovuto l'aumento di tensione qui che non resta perfettamente costante non è dovuto al fatto che sto aumentando la tensione qui ma al fatto che sta passando una corrente importante per esempio qui vi sono 500 millivolt di aumento a 3.3 ampere che sta scorrendo nel circuito per farvi vedere questa cosa che poi vi spiegherò sullo schematico vado a inserire una resistenza da 10 ohm che ovviamente fa scorrere meno corrente quindi vado a imporre nuovamente una tensione di 12 volt e andando ad aumentare la tensione si vede che non vi è più quella grande escursione ma aumenta leggermente per esempio qui adesso non sono neanche arrivato a un ampere 200 millivolt con 10 volt di escursione perché? perché sta passando meno corrente quindi questo aumento di tensione qui è dovuto al fatto che scorra una maggiore corrente nel circuito che si vede anche in simulazione e adesso poi vi spiegherò con lo schematico e adesso voglio vedere se i rami sono bilanciati quindi rimetto la resistenza da un ohm ok lo porto fino a 4 ampere no devo farlo da qui ok facendo la vendola 49 qui quasi 52 49 uguale al ramo 4 e qui 49 quindi sono diciamo sono bilanciate e c'è una piccola differenza come le altre tre modalità però anche in questa modalità le correnti che scorrono su ciascun ramo diciamo sono bilanciate come visto in precedenza abbiamo che in modalità voltage mode non ci dovrebbe essere nessuna informazione sul feedback di corrente perché ai capi dell'integratore arrivano soltanto il valore di set point e la misura di tensione ai capi del carico elettronico mentre nelle altre due modalità vi è l'informazione del feedback di corrente ora come detto se fosse un carico elettronico a un solo canale questo andrebbe bene ma visto che sono 4 in parallelo sono appunto andato ad utilizzare questo questo schema che prevede di andare a mettere il feedback di corrente in parallelo al set point al valore di set point sul nodo invertente dell'integratore attraverso questo grande valore di resistenza quindi in pratica questo qui è un sommatore e cosa succede? succede che all'aumentare della corrente che scorre qui questo il valore di questo amplificatore aumenta e quindi va a influenzare quello che è la tensione sul nodo invertente dell'amplificatore quindi il vantaggio è che riesco a pilotare 4 attivi in parallelo lo svantaggio è che vi è una piccola variazione di tensione ai capi del carico elettronico e quindi diciamo a ogni vantaggio corrisponde uno svantaggio i risultati di questi test preliminari sono che il current mode funziona perfettamente il resistor mode funziona perfettamente e con mia sorpresa funziona anche il voltage mode all'inizio pensavo di no come avevo detto nell'introduzione del video ma in realtà era perché avevo sbagliato i collegamenti quindi andandoci dietro ho capito l'errore grossolano e il colmo è che avendolo fatto io lo strumento ho sbagliato il cablaggio sullo strumento che ho fatto io ma va bene quindi tutte e tre le modalità funzionano correttamente quindi a livello di concetto c'è una piccola imprecisione non è diciamo perfetto nel nel mantenere in questa modalità la tensione costante non è perfetto in queste altre modalità ad arrivare perfettamente a zero con la corrente e soprattutto vi è uno squilibrio un piccolo squilibrio perché comunque si tratta di poche decine di mAh fra i vari canali però tutto sommato il carico elettronico per essere la prima versione funziona bene adesso l'altro test che mi preme fare è quello della potenza massima quindi devo raggiungere 250 W di dissipazione sul carico elettronico non so quanto riuscirò a raggiungere con questi dispositivi però adesso andiamo a fare la prova quindi andando a leggere la temperatura dei dispositivi cerchiamo di capire la potenza che riesce a dissipare almeno in queste condizioni per eseguire il test andrò a mettere il carico elettronico direttamente collegato all'alimentatore in modalità current mode in modo che aumentando lentamente la corrente che scorre nel carico avrò facilmente accesso al valore di potenza perché effettua banalmente la moltiplicazione V per I il modello che utilizzerò per il calcolo delle temperature è il seguente quindi avendo scelto come MOSFET per i 4 canali l'IRF 840 ottengo dal datasheet che la temperatura massima di giunzione che può raggiungere è 150 gradi e che fra la temperatura e che fra l'aggiunzione e il case vi è la resistenza termica di 1 ohm inoltre fra il case e l'heatsync utilizzando il pad termico e avendo un contatto perfetto si ha una resistenza minima di 0,5 ohm quindi quello che andrò a fare sarà andare a leggere la temperatura di questo MOSFET che è quello peggiore perché avendo qui la vendola e qui questi altri 3 MOSFET che vanno a scaldare l'aria a lui gli arriva l'aria già riscaldata da questi dispositivi quindi è in condizioni di dissipazione termica peggiore quindi andrò a leggere la sua temperatura di giunzione e più che altro vado a leggere quella di case quindi per approssimazione assumo che si tratti di quella di giunzione perché dalla parte del case non dissipa da nessuna parte e mi vado a calcolare quindi la temperatura di giunzione massima che raggiunge a quale potenza inoltre quello che a me mi serve poi a livello simulativo per simularlo appunto sui programmi di simulazione termica mi serve sapere la temperatura di heatsink che riesca a ottenere sottraendo la temperatura di giunzione la caduta termica che si ha andando a moltiplicare la resistenza totale di questo circuito che è 1,5 Ohm per la potenza letta del carico elettronico diviso 4 perché appunto su quell'attivo vi sarà solo un quarto della potenza dissipata sono andato a mettere tutto intorno al mosfet il nastro isolante nero in modo da aumentare l'emissività sia per prendere la temperatura con stola a infrarossi ma principalmente utilizzerò la termocoppia in modo da mettermi perfettamente a contatto quindi adesso inizio ad assorbire arrivo al punto limite dove leggo qui 130 gradi perché comunque come detto non è la temperatura di giunzione quindi voglio tenermi un margine e vado a vedere quale sono i vattaggi massimi che riescono a reggere sto facendo andare la prova da un po' mi sono fermato su questo punto di lavoro quindi 25 volt 4 ampere per un totale di 100 watt e 25 watt per ciascun canale e andando a misurare la temperatura del mosfet in questa condizione ora sta stavendo ok c'era un contatto un perfetto comunque si assesta intorno ai 130 gradi quindi non voglio andare oltre questo punto perché non ho voglia di rompere oggi nessuno dei mosfet però con 25 watt abbiamo che la temperatura sul case è quella che vedete qui sulla termococca quindi diciamo un picco di 135 gradi se non riesco più a beccare però il picco è quello quindi con 25 watt c'è un picco di temperatura di 135 gradi andando a fare due conti utilizzando la formula di prima abbiamo che avendo raggiunto il picco di 135 gradi di temperatura di giunzione meno resistenza termica calcolata per i watt che erano in quel momento sul mosfet otteniamo che la temperatura di heat sink dovrebbe essere 98 gradi ora penso che sia totalmente sbagliato perché in realtà credo che questo valore sia molto molto più alto perché come detto ora vi faccio rivedere meglio la scheda di taglio quindi questi sono i mosfet andando a guardare dalla parte di dietro si vede chiaramente che vi è il pad che sporge fuori quindi ve l'ho detto era soltanto per testare il funzionamento però già questi dispositivi sono sbagliati poi un po' sporge anche fuori quindi il risultato è che non riesce a dissipare in totale questo carico elettronico più di 100 watt quindi questa resistenza è molto più alta e questo valore non mi serve niente da riportarlo sul simulatore termico perché in pratica è sbagliato perché in realtà non conosco bene questo valore quindi il risultato di questo test è soltanto sapere che in questa configurazione riesco a dissipare massimo 100 watt i risultati dei test di oggi sono che per quanto riguarda il circuito abbiamo che il current mode resistor mode e voltage mode funzionano quindi quello che era lo schema di concetto sembra funzionare perfettamente ci sono ovviamente delle imprecisioni dovuto al fatto che il circuito va calibrato però al di là di questo come detto lo schema il concetto che ci sta dietro lo schema elettrico sembra giusto e funziona per quanto riguarda invece la parte di potenza abbiamo che in questa configurazione si riescono a dissipare massimo 100 watt invece di 250 watt previsti e quindi di conseguenza per quanto riguarda l'utilizzo come carico elettronico ibrido abbiamo che la potenza massima che si può utilizzare è 400 watt quindi inferiore al kilowatt di progetto una volta constatato che il circuito funziona posso passare alla versione 2.0 quindi aggiustare le cose che non vanno in questa versione che sono prima di tutto aggiornare il package a TO247 dei 4 MOSFET perché si è visto che il TO 220 non è assolutamente in grado di dissipare con le potenze aggiungere una quarta modalità oltre alle tre esistenti che ho visto su un altro carico elettronico quindi ho scoperto che esiste anche la modalità power mode e quindi voglio implementarla e poi valutare se passare alla regolazione discreta che cosa intendo ho visto che dal punto di vista poi alla fine pratico utilizzare dei potenziometri non è il massimo perché in fondo non si vogliono impostare 0,67 ampere di assorbimento alla fine per per ciò che devo farci in laboratorio mi bastano numeri discreti quindi un ampere due ampere tre ampere non un'infinita scala di valori però appunto come detto la voglio valutare se effettivamente mi risulta comodo perché poi dal punto di vista del front end che vado a utilizzare mi risulta più comodo perché cambio magari un jumper e sossicuro la corrente che passa mentre appunto così devo ogni volta andare a mettere in serie un amperometro o comunque misurarla in qualche modo quindi o metto degli amperometri già nel carico elettronico o comunque insomma valutare questo tipo di regolazione molto bene per questo video quindi è tutto alla prossima